nonnena ragazzi è tornata è tornata la nonna ma oggi è un nuovo gioco the twins si chiama ma non è la nonna il nonna ad uccidere sono i suoi figli lecci sporchi rozzi i suoi figli dobbiamo fare una missione pratica già un po giocato easy mettiamo facile allora la nostra missione recupera questi tre oggetti che sono stati rubati da questi due vecchiacci schifosi che non so neanche come sono fatti perché ho giocato solo alla pratica un mio dio cavolo come si fa allora è una casa la conosco un pochino però non ho mai visto ecco c'ho la barra della vita ok quindi se mi faccio male praticamente ecco la crowbar mo dove va utilizzata questo che ho giocato appena uscito ma mo non mi ricordo dove andava dove va qua no no qua andava ok perfetto oh lampadario ma do ce l'ho fatta che è raga dove sono dove sono sti lecci sporchi rozzi no li sento oh musichetta horror no vabbè oh mi hanno bloccato quanto sono brutti mamma mia già mamma mia quanta vita che mi hanno levato ma do porca misera abbiamo già iniziato quanto sono brutti e schifosi mi viene dopo i due che è sto schifo è chiusa che devo fa ma che è sta cosa ma che è ma che figo ma non è che richiamassi i nipoti io mi metto che schifo mi ricordano le fogne di grenni due che schifo no vabbè e mo posso anche saltare caspita è come the racing c'ho la chiave c'ho la chiave c'ho la chiave sto sporco io mi giro massimo questo non mi vede non ci credo no l'avrà sentita la porta che si è aperta l'avrà sentita o no io aspetto che se ne va e partiamo alla riscossa ok questa fa rumore se la troppo c'ho ancora dove l'avevo perso il piede di porco dove è salito questo cretino è salito qua vero non è salito qua meno male perfetto guardate che mo me lo ritrovo davanti mi ritrovo il leccio mi ritrovo l'altro sporco ciccione guardalo quanto è ciccione ma io lo frego e vado dopo ah 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 perfetto chi è che mi ha mandato un messaggio ah perfetto oh mio dio qua 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 e poi abbiamo l'inventario che puoi prendere più di un oggetto vai che cosa ho trovato un ingranaggio so dove va messo credo dove stanno dietro eccolo quello che mi ha ucciso prima allora questo è fausto e l'altro è scrauso quello magro è fausto mentre quello ciccione non posso prenderlo non posso prenderlo ma invece una botola qua a terra che è ma che è sto schifo mamma mia ma che tengono sti due nipoti ma do ma do ma do qua non c'è niente perfetto oh una tazza di tè mmm ma che è e che è sta roba oh che schifo nei panni sporchi no 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 ma che nei panni sporchi ma scherziamo e che è sta roba oh my gosh vabbè io uso il piede di porco così mi libero oh c'è un passaggio che cos'è non lo so oh una plank una plank vai perfetto vai oh no un pezzo di revolver io credo che sta plank mi servirà in futuro come la buon la buona vecchia granni no fatto casino vero fatto casino eccolo infatti ho fatto casino ho fatto casino dannazione diciamolo eeeh va bene eeeh che facciamo dove ci ha messo in prigione ecco la pubblicità di disegnare un orso coi cubi ecco perfetto dai aspettiamo che finisce perchè il nonno cioè no il nonno perchè il nonno sono abituato troppo a dire nonno fausto mi ha beccato mi ha beccato eeeh davanti alla porta ma io stavo per dire lubus il fabula e che caspita ma che che schifo è un passaggio segreto grande perfetto adesso lì ho perso tutti gli oggetti c'ho la plank che forse a me mi serve perchè mi serve che come la buona vecchia granni hanno le stesse abitudini dato che sono nipoti perchè la plank servirà a qualcosa vi ricordate il passaggio di slendrina ecco uguale perfetto prendiamo la roba questo credo che non ci serve che è che è sto passaggio ma mi mi devo accucciare ma stavano dietro credo che stavano dietro la scrive le wheel fico cosa ho combinato ho spento le luci avevo visto un passaggio segreto avevo visto un passaggio con le no ma che cos'è ah ecco dove mi trovo sta un po' laggando cos'è scusate cos'è il laser la moneta di giulio cesare e oh mio dio la moneta di giulio cesare ma come risaliamo qua scusate e ma mi do lo passa sotto lo passa sotto aspettate un secondo mi devo suicidare ecco esploso esploso tra l'altro però i laser di di solito quando esplodono si levano il meccanismo che hanno quindi l'avrò levato che intelligente che sono sapete che devo fare ma ah ma posso aprire c'è il piede di porco ah plank mi serve perfetto oh ok ma dove avevo perso gli oggetti ah giusto nel passaggio delle fogne è vero lì 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 vai qua 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 dobbiamo ritornare in giardino perfetto puoi andare qua sotto ah ma dai ma cosa ma prima non ero caduto cioè non mi ero fatto male vabbè perfetto la scrivo idea qui ma ok ma io devo fare una cosa dato che si era il passaggio vabbè senti eh Fausto io non ho fatto cadere niente qua forse perché sono caduto io ma e vabbè forse perché sono caduto io Fausto ecco pure la pubblicità ma come devo fare con sti due nipoti ostinati della nonna che praticamente fanno tutto e perché praticamente sti due nonni lerci e sporchi ecco non sono nonni perché sono abituata di nonni oh cavolo 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 ma che non devo ho fatto casino ma che cos'è la monna lisa quella che hanno rubato fu che ma hand wheel avevo visto dove utilizzarla la hand wheel la plank lo sapevo la plank dove si mette e e ma ho capito ma 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 è comparsi il bollino dove metterla no vabbè che stupidi lerci ma io vabbè io prendo questa l'hand wheel non so allora dove li attiro ah li attiro di qua vai perfetto e adesso mi riprendo la mia plank ecco aia ma dai sono morto ma come cioè no mi sono fatto male sono pure svenuto ho preso una botta in testa ancora qua mi ritrovo ecco dove dovevo andare ecco perfetto vai uno due salta perfetto salta però è troppo alto no 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 e adesso risaliamo aspettate quella porta non si poteva aprire però dobbiamo ritornare nel passaggio dell'elettricità per togliere tutta la corrente dov'è l'elettricità passaggio dove era dove era dove era caspita aspetta eccolo credo che stavo qui ho sentito qualcosa che non volevo sentire vabbè la scrivo di drevoli credo che mi serve oh che c'è ah qua c'è il passaggio sporco e umido che schifo che schifo un martello credo che non ci serve credo che il passaggio era di qua caspita ok andiamo 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 perfetto giù 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 no no qua erano le fogne no dove andava messo aspettate forse forse ricordo vicino al giardino no mi sto memorizzando non lo so iu cosa ho fatto mi sono messo qua vedo il martello insanguinato di quello mamma mia mamma mia marcello ha parlato eccolo vedo il culo da fuori guardalo guardalo perfetto 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 adesso ma che c'ha là scusate no mo si gira e mi vede mo si gira e mi vede no no son cretino proprio son cretino son cretino guardavo pure il gemello l'altro come mi fissano ma sapete una cosa che non ho visto guardate come si deve fare la monna lì al passato che cosa c'è qua sotto non lo so sembrano le miniere di di giù casmino un gioco caspita oh mamma mia se cadevo giù mamma mia perfetto che cosa c'è perché c'è una gabbia ma che sono quelle corna raga ma che erano quelle cose sembravano le cose di uno scarabbeo o di uno tarantola che cos'era che cos'era quel mostro stanotte non dormo ovviamente scherzo cavo ecco mi tocca chiamare ah no posso fare io col piede di porco perfetto dai io voglio vendetta per che serve sto coso ah che diamine allora la bottiglia del disinfettante una cosa vabbè io intanto devo fare una bella cosa una bella cosa allora allora prima oh madonna che paura quanto sei brutto aia mi ha fatto pure male ecco io ed è il finale come ti uccidono veramente no vabbè no ma che porca miseria cavolo questi nipoti oh sono intelligenti eh sono intelligenti questi qua oh una chiave verde nel gabinetto non la prenderò mai mai nel gabinetto di stilerci ecco ecco mi si è baccato il gioco porca ma con uno eccomi prendemo porca miseria oh ce l'ho fatta qui dentro qui dentro qui dentro qui dentro sbrigati cretino mo tu apri questa mo tu apri la cella ecco mo tu apri la cella l'avevo detto perchè loro possono aprire le celle con la scansione facciale c'è la macchina la macchina della scansione facciale si rifiuta di aprirli per quanto sono brutti oh no 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 oh te lo do sulle gengive questo coso eh io dovevo andare qua ok perfetto vai no sono morto che schifo cos'è è un insetto di sicuro mutante di sicuro gigante ma che ma è la miniera di prima che ci la mia scrawlidrawl che ci fa è uno scarabbeo è uno scarabbeo no che schifo non voglio vedere va bene ragazzi spero che questo vi sia piaciuto lasciato il vi piace iscrivetevi al canale ciao